vediamo quest'altro che si fa nel missing? ma no che schifo, non si può vedere la mia auto, la donna piace tu anche la mia fa cagare, è zarra però sembra una macchina ditta donna quindi è ultra zarra ricordamelo, la prossima volta prima era con loro tutte e poi c'erano bellissime perché adesso volevo farla tutta nera non è che non posso dai ok si parte, che si fa qua? oddio che cos'è? che devo fare? che bisogna aver capito le furto? e come si fa le furto? ah si le furto ma io dove l'ho massacrato insomma se tipo quelle aree dove fanno dare quelle macchina ma che si fa? ahhh ma stai non posso uscire? non andiamo indietro? no ma che devo fare? l'importante è che vinco io no il mio, no mi ha mancappato la macchina ma non lo so, camera oddio possiamo muovere la camera possiamo muovere la camera? ah ma fare le foto? ma che cagata possiamo anche uscire smac smacshot sorridi oreo cheese smacshot ahia ahia no ahahah non c'è che devi cercare qua ma guarda vorrei i segni per terra guarda si boom vabbè andiamo a fare una gara seria adesso come si esce qui 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 andiamo qua vai join private ok ok ma inviturase andiamo tipo ma che bastardo tu cosa ne hai modificato che hai piaciuto il motore come se il motore è nuovo e avevi i soldi? avevo 50.000 di soldi come 50.000? avevo 50.000 ma davvero io non ho mai superato i mille no no sono stato malissimo no sono stato malissimo però macchina l'ho non so che si è prestato alla banca eh è da gara? non so erai il più potente però anche tu hai modificato qualcosa no vero ma non so ho voto circa mille ho voto ho voto no vero ma non so ho voto ho voto circa mille non so 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 ho fatto la cura più stretta non so non so non so ma vabbè normale oddio ma via ok ti ho già perso oh c***o ti ho modificato il motore non male che schifoso io non ho mai non ho mai oddio no sono entrato no vabbè ma sul passo ti ho usato anche lo sprint eh ho usato il ninja il boss che c***o è traffico magnetico traffico magnetico è quello che penso io è quello che penso io eh vabbè non c'è storia qui ma non fa c***o tu hai i soldi bastardo eh vabbè uuuuuh sono nata sbatter eh eh pensavo che le avessi anche tu no io non li ho io ho avuto mille qui adesso no ma io avevo già da prima 50 mila sono cioè sono partita da 150 mila ho comprato l'auto e mi sono avanzato di 50 mila ecco perchè io sono 100 mila per l'auto ah ecco ma sai che si vede del cominciò si può cominciare non so oddio che spazio ancora sto punto qua vittiro cosa a caso ma oddio le auto pernato a me che sono eh molto l'attivo io l'ha già attivato no ma perché la prima cosa lo stesso tutto perso ah comunque i micro vedi 9 ho usato 1 ah cazzo gli ho finito niente oddio sono una salva quindi è meglio non usare queste gare qui io sono parecchio potuto mi sento che non ho soggy o una macchina che fa cagare ok ancora intanto non c'è neanche un auto qui no c'è una arriva ok ma totalmente veloce che è neanche vittoria ciao ciao io non ti devo andare 3 minuti e 34 e 78 decimi vittoria ho sbloccato una una scimmetta ho fatto il culo anch'io eh 14 secondi di distacco pochi skip ah forse di capimi soldi per favore oh ho avuto 10.000 di cash eh io 5.000 ma tu sei uno culato di verba 10.000 attenzione va bene puoi andare aspetta nella sefaus si possono sbloccare cioè hai ancora hai fatto gli archimenti e hai gli altri soldi com'era? come ho fatto prima per vedere gli archimenti? no ma mi sa che era fuori dalla sefaus ah vedi dove c'è la d veicito aspetta ma posso aspetta ma posso aspetta auto si per 50.000 mela vengo no ma fa così si apri e vedi in alto c'è una d dove ci sono gli archimenti log o primi ma tu dici in gioco o ne va sei palo? devi in gioco in gioco ah ok io lo fai ci sono primi e fai gli archimenti che hai completato devi devi sbloccare cioè il il premio c'è questo col pors è il bors è il bors è il bors si il mod ok e devi fare claim reward eh sì sì così ti da il premio sono in power up o qualche altra cosa vabbè io direi di stopparmi live e se vi piace il live ragazzi mettetelo oddio mi è passato uno mi ha distrutto il semaforo allora proverò a mettere il live questo live su youtube e vediamo se vi piace alla gente così se qualcosa continuiamo con questo live per divertirci un po' oppure se avete qualche consiglio in particolare di qualche altro gioco ovviamente free to bleed perché sarebbe più comodo per noi ci sono poveri no a parte quello non abbiamo partnership non siamo money grab esatto e nient'altro ragazzi ci vediamo alla prossima show a tutti